Una coppia di forze sono due forze uguali e contrarie che distano una certa distanza D una dall'altra. Hanno la direzione parallela, quindi sono due forze, quindi due vettori, due entità vettoriali. Stanno su due direzioni parallele ad una certa distanza D e hanno come intensità, la stessa intensità, come verso, versi opposti. Evidentemente la risultante di queste due forze è 0 perché se noi partiamo dal punto 0 inseriamo la prima forza F1 e andiamo nel punto 1 poi inseriamo la forza F2 e torniamo di nuovo al punto di partenza per cui la risultante è 0. Quindi queste due forze hanno come risultante 0. Se noi facessimo il poligono funicolare e provassimo comunque, anche pur sapendo che la risultante è 0 quindi non dobbiamo andare a cercare dove sta la risultante perché se è 0 non sta da nessuna parte il risultante. Però proviamo a fare questa operazione di costruire il poligono funicolare quindi prendiamo un po' lo O uniamo O con 0 O con 1 e O con 2 perché 2 mi ricordo che sta qui Se andiamo sul sistema di forze che è stato riportato qui tracciamo la parallela al lato A la prima fino a intersecare la forza F2 dopodiché facciamo la parallela al lato B fino a intersecare questa forza F1 e poi la parallela di nuovo al lato C che chiaramente in questo caso coincide con il lato A e la situazione che vediamo è questa vediamo che il primo e l'ultimo lato sono tra loro paralleli giustamente perché erano coincidenti quindi devono essere paralleli sono paralleli paralleli significa che non si incontreranno mai giustamente noi stavamo cercando il punto di passaggio di una fantomatica risultante 0 e qui lo troviamo questo punto di passaggio all'infinito quindi come se fosse all'infinito questo punto di passaggio ecco diciamo che la coppia di forze è caratterizzata da un momento un momento M il momento M che è dato dal prodotto di una forza per quella distanza la distanza tra le due forze provo a disegnarvi qua la situazione qui abbiamo F2 e qui parallelamente a questa F1 la distanza diciamo che la retta d'azione di F2 è questa la retta d'azione di F1 è questa la distanza tra queste due forze la chiamiamo D se prendessimo un punto P e volessimo determinare il momento di queste due forze di questo sistema fatto da due forze uguali e contrarie disposte su due rette parallele se volessimo determinare il momento il momento rispetto al polo P ok tenendo conto di una convenzione prendiamo come convenzione positiva quella che fa ruotare il corpo in senso in questo caso orario ok questa è una convenzione nostra il corpo immaginiamo che possa essere questo ok allora avrei F2 per il suo braccio B2 dove il braccio B2 adesso cambia colore braccio B2 è quello che va dal punto P perpendicolarmente alla forza F2 questo è il braccio B2 ok braccio B2 è questa qua questa lunghezza qua misurata perpendicolarmente alla retta d'azione della forza F2 più F1 per B1 dove B1 è invece adesso lo faccio qua staccato un po' altrimenti si soprappone all'altro B1 è questo distanza tra il punto P e la forza F1 ok però attenzione che questa è una somma algebrica algebrica che tutti i termini di questa somma hanno con sé i propri segni e i segni dipendono dalla nostra convenzione mi hanno detto che ciò che fa ruotare il corpo in senso orario lo considero positivo ciò che fa ruotare il nostro corpo in senso anti-orario prendiamo negativa allora vediamo la F2 F2 vedete ha questo verso per cui tende a far ruotare il corpo in questo senso cioè in senso rispetto al punto P chiaramente in senso orario e quindi secondo la nostra convenzione questo termine è positivo F1 F1 invece come vedete produce una rotazione di tipo anti-oraria rispetto rispetto al polo P quindi sarà negativo ok allora posso scrivere in questo modo avanti F2 per questa volta B2 ok meno lo scrivo bene F1 facciamo così F1 per B1 ok quindi scrivo MP vi ricordo che F1 e F2 sono uguali una coppia di forze è caratterizzata dal fatto che queste due forze sono uguali in modulo quindi posso e posso dire che è uguale a F quindi posso scrivere F per B2 meno B1 raccogliendo già direttamente ma B2 meno B1 è uguale a D quindi posso scrivere che è F per D nel momento della coppia rispetto al polo P ok sono arrivato qui vedete che già ci viene un sospetto proprio perché i due termini che compongono questo momento sono indipendenti dal punto P che ho preso perché F è la forza di ciascuna forza di questa coppia e D è la distanza tra queste due forze della coppia ma potrei prendere ad esempio un altro punto prendiamo un altro punto qui chiamiamo K allora se io volessi determinare il momento rispetto al polo K devo fare sempre F2 per B2K chiamiamola così rispetto a K e B2K chiaramente è questa B2K è questa distanza questo braccio la distanza della forza rispetto al polo K guardiamo subito i segni allora rispetto al punto K F2 fa ruotare il corpo in senso anti-orario per cui secondo la nostra convenzione questo è negativo vediamo F1 F1 invece rispetto al polo K vedete produce una rotazione del corpo di tipo orario per cui quella sarà positiva allora sarà F1 per chiamiamo B1K dove B1K se lo faccio qua appena appena distante questa B1K è questa distanza ok anche in questo caso devo dire che F1 e F2 sono uguali per cui raccolgo F per tra B1K meno B2K ma B1K tutto questo meno questo è sempre uguale a D quindi questo sarà uguale ad F per D quindi anche MK è uguale a F per D ok quindi non solo il momento rispetto al polo P ma anche rispetto al polo K ma anche rispetto ad un qualunque altro punto che andrò a determinare qui sul punto anche fuori e otterrò come valore questo F per D quindi la coppia la coppia di forze coppia di forze caratterizzata appunto da questo caratterizzata dal fatto che tanto è costituita da due forze uguali contrarie disposte su due direzioni parallele distanti di una lata in più è caratterizzata da questo elemento che è il momento il momento della coppia questo è il momento della coppia ok ok eccolo qua quindi F per D chiaramente l'unità di misura è Newton metri ecco questo è un esempio di coppia di forze quando noi facciamo ruotare ruotare una maniglia è come se applicassimo due forze uguali e contrarie e questa tende a ruotare non trasli chiaramente quindi il fatto che non trasli significa che la risultante è zero nel momento in cui la risultante fosse diversa da zero ci sarebbe anche la traslazione cosa che non c'è in questo caso allora il valore ad esempio dell'intensità il segno del momento di una coppia di una forza non mutano per qualunque punto ed è quello che abbiamo appena visto del piano che si considera per il calcolo dello stesso momento il quale dipende unicamente dall'intensità F abbiamo detto che è F per D cioè dalla distanza tra queste due forze un'altra proprietà è che se un sistema complanare cioè che sta sullo stesso piano comprende due o più coppie quindi se abbiamo un sistema di più coppie così come abbiamo un sistema di forze possiamo avere un sistema di più coppie come vedete qui il momento complessivo il momento risultante è dato dalla somma algebrica anche qui somma algebrica dei momenti di tutte le coppie del sistema cioè se noi guardiamo questo sistema vediamo che questa coppia è una coppia che produce una rotazione di tipo orario anche questa produce una rotazione di tipo orario questa invece produce una rotazione di tipo anti-orario per cui se consideriamo positivi come abbiamo visto anche prima le coppie che producono una rotazione di tipo orario queste e queste risulteranno positive e questa sarà negativa per quello che si parla di somma algebrica perché dobbiamo tener conto dei segni di queste coppie dei segni di questi momenti quindi il momento risultante così come la risultante di tutte le forze è data la somma dei momenti di ciascuna coppia vedete questo simbolo indica la sommatoria di tutti gli MI cioè i momenti delle coppie di forze presenti in quel sistema questo è un esempio allora se abbiamo tre coppie dove abbiamo F1 che è 20 N con un braccio B1 F2 30 N con un braccio B2 che appare 0,2 metri F3 40 N con un braccio di 0,6 metri allora il momento il momento della coppia F1 quindi possiamo dire chiamiamolo M1 sarà uguale a F1 per B1 e quindi sarà F1 20 N per 0,8 metri ok M2 M2 sarà uguale a F2 per B2 cioè F2 30 N per B2 che è 0,2 metri M3 M3 è uguale F3 per B3 cioè 40 N per 0,6 metri mettiamo già i segni allora se questa questa produce una rotazione di tipo orario e quindi positiva quindi questa è positiva il 2 F2 produce una rotazione di tipo anti-orario vedete queste due forze se applichiamo queste due forze abbiamo una rotazione di tipo anti-orario quindi questa sarà negativa secondo la nostra convenzione questa invece produce una rotazione di tipo orario e quindi positivo quindi il risultato in questo caso sarà 16 N positivo in questo caso sarà 6 quindi meno 6 N M in questo caso invece sarà 24 N M positivo quindi il momento complessivo di questo sistema è dato dalla sommatoria abbiamo detto dei momenti MI e quindi sarà dato dalla sommatoria algebrica quindi con i relativi segni di M1 più M2 più M3 dove M1 è 16 N metri meno 6 N metri più M3 che è 24 N metri ed eccola qua e quindi il risultato complessivo sarà 34 N metri poi fa un'altra domanda questo esercizio calcolare il momento risultante quindi questo è il momento complessivo quindi M del sistema è 34 N metri poi dicevo fa un'altra domanda calcolare il momento risultante quello che abbiamo appena ed esprimere mediante una nuova coppia di braccio pari a 0,5 metri cioè dice vabbè se noi abbiamo una coppia una nuova coppia che quale valore F non lo conosco ma so che questa ha un braccio della coppia di 0,5 metri quant'è la forza che mi produce lo stesso momento di questo sistema punto di domanda quindi la domanda è determinami la forza beh se so che il momento di questa coppia è uguale alla forza per il braccio di questa coppia conosco il momento perché è quello che voglio determinare voglio ottenere attraverso questa forza conosco il momento e conosco il braccio perché mi viene dato dal testo posso ricavare la forza F uguale a M fratto B ok che è questa quindi M lo conosco 34 0,5 34 newton metri newton metri qua 0,5 metri chiaramente questo metri va via rimane newton come unità di misura 34 newton metri fratto 0,5 metri risultato 68 newton cioè la forza che deve avere questa coppia per produrmi lo stesso momento di questo sistema di forze quando queste due forze quindi sono distanti 0,5 metri è pari a 68 newton ed era il risultato richiesto dal problema un altro concetto importante è questo quello della coppia di trasporto allora coppia di trasporto ok allora supponiamo di avere una situazione di questo tipo supponiamo che questo sia un pilastro pilastro sezionato supponiamo immaginiamo che questo sia l'asse sembrale e supponiamo che sia caricato questo pilastro con una forza eccentrica carico eccentrico con eccentricità e ok diciamo che sarebbe meglio che il pilastro fosse caricato centralmente in modo tale che poi tutte le tensioni all'interno del pilastro risultino essere uniformi ma se succedesse una roba del genere e succede anche spesso perché difficilmente il carico è centrato sul pilastro succede che questa zona è molto più caricata rispetto a questa questa scarica del pilastro quindi qua il calciastruzzo se è fatto in calciastruzzo questo pilastro deve resistere meglio sicuramente è più sollecitato ha delle tensioni maggiori e deve sopportare delle tensioni maggiori ok va bene ma questo al momento ci interessa relativamente ecco io potrei potrei trasformare questo sistema dal punto di vista del calcolo in un sistema di questo tipo rifaccio di nuovo il mio pilastro il mio asse potrei pensare di aggiungere qui nel baricentro e togliere nel baricentro la stessa forza questo sistema vedete che prima era un sistema con un'unica forza adesso ci sono tre forze però in realtà questa e questa sono uguali a P ok ma sono uguali contrarie messe nello stesso punto questo sistema ha la stessa risultante gli effetti sostanzialmente di questo sistema sono gli stessi che prodotti dall'unica forza ok però però facendo in questo modo ho questa situazione se considero se considero queste due forze ok e questa separata avrei una situazione di questo tipo la forza P qui centrata più questa coppia coppia risultante zero che posso identificare in questo modo ok con il proprio momento che è il momento è P per la distanza P per E cioè io posso sostituire a questo sistema costituito da un'unica forza questo sistema dove aggiungo alla stessa forza portata però nel centro del mio pilastro questo momento che è il momento della coppia che si verrebbe a generare in questa situazione quindi diciamo che posso spostare sostanzialmente vedete che ho spostato questa forza che inizialmente era qua l'ho spostata al centro nel punto centrale del mio pilastro però ho dovuto aggiungere una coppia o meglio il momento di questa coppia che si è venuta a generare in questa situazione quindi P per E a questo punto ho riequilibrato di nuovo questo sistema cioè questo sistema di partenza o meglio il sistema di partenza che era in realtà da questo il sistema di partenza era questo il sistema di partenza ok il sistema di partenza era questo qua abbiamo le freccette nel modo di sono tutti vettori questi ok allora il sistema di partenza era questo ho fatto questa astrazione per portarmi a questo sistema a questa cosa qua quindi diciamo che da questo sistema posso passare a questo e i due sistemi sono equivalenti perché mi producono gli stessi effetti perché questo effettivamente questo carico messo qui in questa posizione è vero abbiamo detto che in questa zona è molto più caricata rispetto a questa ma succederà la stessa cosa anche qui perché pur essendoci un carico distribuito cioè un carico concentrato nella parte centrale del mio pilastro che mi farebbe pensare a una distribuzione uniforme in realtà questa questa coppia mi produce ancora gli stessi effetti cioè in questa zona sarà più caricata mentre scaricherà vedete per effetto di questa coppia scaricherà questa zona qua quindi avrò questa zona che sarà più caricata di questa così come in questo caso diciamo che i due sistemi sono equivalenti e possiamo ad esempio fare questa operazione se noi e tra poco cominceremo a parlare di travi e gli sforzi interni di queste travi se pensiamo di avere un carico qui ok immaginate di avere questa trave appoggiata sui due estremi questo è un carrello che tra poco vedremo cosa significa questa è una cerniera e qui ho una forza P messa in questo in questo punto se questo è L e diciamo che questo sia L mezzi immaginiamolo al centro questo carico al centro della mia della mia trave ecco io potrei sostituire questo sistema così quello reale quello che ho con questo potrei portare non so mi interessa portare questo carico e vederlo concentrato in questa zona perché poi i calcoli mi aiuteranno a ottenere determinati risultati bene allora porto il mio carico qui lo trasporto qui ok però non posso fare solo questo perché questi due sistemi in questo momento sono due sistemi differenti perché qui il carico ce l'ho al centro qui il carico ce l'ho su un appoggio non sono equivalenti questi due per riportare la stessa equivalenza devo aggiungere in questo caso una coppia che in questo caso sarà una coppia di questo tipo ok perché è come se io aggiungessi come ho fatto là aggiungessi e togliessi in questo punto questo vertice A carico P cosa succede che avrei questa coppia vedete che mi produce una rotazione una rotazione anti-oraria e quindi ecco che questa coppia che avrà come valore P per la distanza tra tra le due forze che in questo caso è le mezze ok quindi allora ecco che questi due sistemi a questo punto sono equivalenti cioè dire ho il carico P nel punto centrale dico ho il carico P qui più una coppia P per L mezzi gli effetti che vengono prodotti su questo tipo di trave sono gli stessi e questa quello che a noi interessa in questo momento questa si chiama che è questa qua identificata con questo con questo arco si chiama coppia di trasporto e serve per riequilibrare di nuovo il sistema perché se il carico è qui non è qui e se io lo voglio portare qui è evidente che devo aggiungere qualcosa e quel qualcosa è quella coppia è la coppia di trasporto che serve per rimettere i due i due sistemi il sistema 1 e il sistema 2 in in coerenza cioè devono essere coerenti devono essere uguali perché se non sono uguali allora stiamo parlando di cose differenti e questo non può andare bene eccolo qua quindi diciamo che il momento di trasporto o coppia di trasporto allora un'altra cosa molto importante che dobbiamo invece affrontare è l'equilibrio l'equilibrio del corpo perché se noi cambiamo un corpo generico ed è soggetto ad un sistema di forze F1 F2 F3 F1 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 l'ultima allora se abbiamo un corpo soggetto ad un sistema di forze questo corpo può stare fermo e quindi è in equilibrio può traslare può ruotare allora facciamo così può traslare può ruotare può roto traslare tutti e due i movimenti contemporaneamente e può stare fermo ecco questi sono casi possibili abbiamo un corpo soggetto a questo sistema di forze questo sistema di forze cosa produce su questo corpo può produrre una traslazione può produrre una rotazione può produrre una rototraslazione cioè tutte e due insieme oppure può stare fermo e in questo caso che è quello che a noi interesserà abbiamo l'equilibrio ok abbiamo l'equilibrio questo non interesserà però vediamo allora quando è che il corpo trasla e trasla quando la risultante del sistema è diversa da zero se la risultante del sistema è diversa da zero però attenzione deve essere accompagnata anche dal fatto che il momento sia uguale a zero perché se il momento è uguale a zero vuol dire che vuol dire che non abbiamo la rotazione ciò che produce la rotazione è questo elemento questo termine quindi se il momento è zero non c'è rotazione ma c'è traslazione perché la risultante del sistema è diversa da zero quando è che abbiamo risultante diversa da zero quando abbiamo il poligono delle forze aperto se il poligono delle forze è aperto è chiaro che il primo e l'ultimo punto non coincidono e quindi quel punto vuol dire che abbiamo una risultante diversa da zero il momento è uguale a zero il momento è uguale a zero quando il primo e ultimo lato del poligono funicolare coincidono cioè diciamo che possiamo dire che il il poligono funicolare si chiude in quel caso abbiamo in quel caso abbiamo appunto che il momento è zero qual è che può solamente ruotare beh se può solamente ruotare vuol dire che non trasla vuol dire che intanto la risultante è zero perché se fosse diversa da zero il corpo tenderebbe a traslare può ruotare significa che il momento invece è diverso da zero allora in questo caso abbiamo momento diverso da zero allora può ruototaslare significa che sia il risultante che il momento sono diversi da zero beh chiaramente quando è che il risultante è uguale a zero in questo caso quando il poligono delle forze il poligono delle forze è chiuso allora se il poligono delle forze è chiuso il risultante è zero dicevo quando può ruototaslare quando il risultante è diverso da zero e il momento è diverso da zero in questo caso trasla e ruota contemporaneamente quando invece abbiamo questa situazione è quando la risultante intanto deve essere uguale a zero perché se non è così vuol dire che il corpo trasla e non deve traslare se deve star fermo e anche il momento deve essere uguale a zero perché se il momento è diverso da zero c'è la rotazione per cui per non avere la rotazione devo avere il momento uguale a zero per non avere la traslazione devo avere la risultante uguale a zero ecco che se li ho contemporaneamente avrò l'equilibrio del corpo quindi il corpo sarà in equilibrio quando la risultante e il momento delle forze di tutte le forze che agiscono su quel corpo saranno nulle posso scrivere posso scrivere queste diciamo condizioni attraverso delle equazioni perché sono condizioni di tipo vettoriale che io l'ho scritto così ma in realtà in modo corretto sarebbe r uguale a zero cioè il risultante nulla e il momento che è l'entità vettoriale uguale a zero ecco posso scrivere queste diciamo condizioni vettoriali le posso scrivere in questo modo dal punto di vista di equazioni siccome la r è diciamo è la risultante di tutte le forze che agiscono su questo corpo e le forze abbiamo detto possiamo scomporle in due direzioni x e y se noi consideriamo il piano cartesiano quindi ciascuna forza a f i la posso scomporre secondo le due direzioni f i x e f i y ok posso scrivere che la sommatoria tutte queste forze le posso scomporre in questo modo posso scrivere che la sommatoria di tutte le forze f i x per i che varia da 1 a n dove n sono le n forze che agiscono su quel corpo questa sommatoria deve essere uguale a 0 perché ci sia il risultante uguale a 0 così come anche tutte le forze che agiscono in direzione verticale quindi la sommatoria di tutte le forze f i y per i che varia da 1 a n anche queste forze devono essere nulle cioè la somma di tutte queste forze che agiscono in direzione y così come tutte quelle che agiscono in direzione x devono essere uguali a 0 e accompagnata da m uguale a 0 rispetto ad un punto qualunque cioè se io prendo un punto qualunque un punto p qui e determino il momento di tutte le forze che agiscono su questo su questo corpo rispetto a questo punto p quel momento deve essere il momento rispetto a questo punto di tutte queste forze deve essere 0 se prendo un altro punto k e faccio il momento di tutte queste forze rispetto a questo punto k il momento rispetto a questo punto k deve essere 0 se prendo un altro punto m il momento di tutte le forze rispetto a questo punto m dovrà essere 0 Cioè quindi questo, il momento uguale a zero, significa che il momento rispetto ad un punto qualunque di tutte le forze che agiscono su quel corpo deve essere zero. Quando è che abbiamo queste due situazioni? Beh, per quanto riguarda la r, significa r uguale a zero, significa che il poligono delle forze deve essere chiuso. In questo caso, invece, per quanto riguarda il momento, il poligono funicolare deve essere chiuso. Quindi sia il poligono funicolare che il poligono delle forze perché se tenga questa situazione deve essere chiuso. Quindi anche dal punto di vista grafico riusciamo a capire se un sistema di forze è in equilibrio oppure no. Queste si chiamano equazioni cardinali sono fondamentali. Tutta la statica si basa su queste equazioni cardinali che hai queste tre equazioni che definiscono l'equilibrio di un corpo che è quello che noi vogliamo perché le strutture noi, come vi ho detto più volte, non vogliamo che ci siano delle travi o dei pilastri che si muovano liberamente così si spostano tranquillamente da un punto all'altro. Quindi dobbiamo cercare di creare l'equilibrio quindi le forze tutte le forze che agiscono sugli elementi strutturali devono produrre alla fine un equilibrio un equilibrio statico dove tutto sta sta fermo.